L'obiettivo della Juventus è vincere la Champions entro il prossimo biennio. Pronti rinforzi, si tenta di trattenere Morata. Dopo aver preso male la sostituzione di ieri sera contro il Carpi, Carlos Bacca ha chiesto scusa a Brocchi. Berlusconi, intanto, fa capire di voler cedere il club per farlo restare grande. Eder non è bastato. Alla vigilia della sfida con l'Udinese, Mancini fa sapere che dovrà essere migliorato il fronte offensivo. Buonasera a tutti e benvenuti alla TMV News. La Juventus è l'idea di provare a vincere la Champions in due anni, un progetto realizzabile. Ne parleremo qui in studio. La Juventus vuol provare ad alzare l'asticella per quel che riguarda il suo futuro. Molto dipenderà dal futuro di Pogba e questo è uno dei nodi principali del futuro bianconero. Lorenzo Di Benevetto, buonasera. Buonasera Lorenzo e buonasera a tutti. Ivan Cardia, benvenuto anche a te. Buonasera, buonasera. Ivan Cardia che adesso ci dirà tutto sul futuro della Juventus. A partire da Pogba è lecito attendersi da parte di questo giocatore una risposta entro la metà di maggio in modo tale che poi la Juventus farà le sue valutazioni, le sue scelte per la costruzione della nuova squadra. Ma sinceramente nel caso di Pogba più che da una risposta del giocatore credo che dipenda da una risposta della società. Nel senso Allegri l'altro giorno in conferenza stampa ha detto tra Pogba e 100 milioni di euro io preferisco tenere Pogba. Bisogna vedere se a livello proprio di bilancio sia fattibile un'operazione del genere. cioè se qualora arrivi un'offerta davvero di 100 milioni di euro la Juventus si possa permettere di rifiutarla perché insomma con 100 milioni di euro con la Champions League in cui non si è andati molto avanti quest'anno si potrebbe allestire una grande squadra per il futuro quindi è quella un po' la scelta da effettuare. Però ecco che sia il giocatore o che sia la società una decisione deve essere presa per poi poter valutare anche le altre scelte da effettuare. Ma la Juventus ci è abituati a scegliere con grande anticipo probabilmente una decisione è già stata presa e verrà resa nota per quella data che hai indicato tu quindi diciamo al termine della stagione prima che inizi il mercato perché la Juventus ci ha abituato a programmare con grandissimo anticipo. Io poi non escluderei che in realtà una decisione sia già stata presa l'anno scorso quando il Barcellona, se ricordate, aveva il mercato bloccato e si parlava di un preaccordo fra Juventus e Blaugrana per Paul Pogba. Quindi magari non è detto che non sia già tutto scritto in realtà. E poi c'è da arrivare ad una decisione definitiva anche per quel che riguarda il caso Morata perché Morata deve dare una risposta sulla sua preferenza per il Real Madrid, per la Juventus. Certo, Morata però si è già espresso ha detto che lui dal ritiro della Nazionale con la Spagna disse che lui aveva intenzione di rimanere alla Juventus ancora per tanti anni. Certo è che il Real Madrid ha il diritto di recompra sull'attaccante attualmente alla Juventus e difficilmente se lo farà scappare. Però la Juventus io credo che proverà a convincere il Real Madrid a farlo rimanere a Torino, magari con una controfferta. Difficile che il Real, se vuole davvero riportarlo alla base, possa decidere poi di cederlo. Però comunque il Real Madrid potrebbe puntare anche su altri profili. Comunque bisogna capire quale sarà il futuro di Benzema. Ma Morata sicuramente non vorrà andare a Madrid, non vorrà tornare a Madrid a fare la panchina. Quindi io penso che uno spiraio per la Juventus che magari un mese fa non c'era, adesso sia aperto. 25 milioni potrebbe essere la cifra giusta da avversare nelle casse del Real Madrid per convincere la Real Madrid a lasciare Morata alla Juventus. Poi a quel punto bisognerà vedere anche quali saranno le ulteriori scelte della Juventus per quel che riguarda il trequartista. La scelta per la temporanea sostituzione di Marchisio? Sì, beh, 25 milioni di euro potrebbe essere la cifra giusta per convincere il Real Madrid. Bisogna vedere se può essere il giusto valore di Morata. Perché comunque, ad esempio, in Inghilterra si parlava di una trattativa fra l'Arsenal e il Real per una quarantina di milioni di euro. Quindi una cifra leggermente inferiore a quella che si otterrebbe, sommando, quanto già ha versato dalla Juventus a questi ipotetici 25 milioni di euro. Secondo me forse sono un po' troppi perché comunque Morata ha fatto bene. È un giocatore che soprattutto nelle competizioni europee è stato definito anche il bello di notte, insomma, ricordando Boniek, ha fatto la differenza. Però non so se possa essere, ad esempio, a Real Madrid io non penso che possa fare il titolare attualmente, realisticamente. Poi ci sono anche voci su qualche screzio con Cristiano Ronaldo in passato. Quindi, insomma, è molto complicato capire. Per quanto riguarda il centrocampista, io onestamente non credo molto all'ipotesi Gundogan, che, come dicevamo, insomma, come si è scritto sul nostro sito, dovrebbe andare a Manchester City. Vizze? Ma Vizze, questi profili, secondo me, sono un po' troppo costosi. Dipende più che da Marchisi o da Pogba, in quel caso. Nel senso, se parte Pogba può arrivare un grandissimo nome. Se pensiamo a un nome per sostituire fino a fine novembre, inizio dicembre, Claudio Marchisi, io guarderei al mercato italiano, penserei a Diavara del Bologna, a Ziniti, a Leposi. Che comunque non costa poco. Che comunque non costa un poco, però sono anche nomi futuribili. Sulle valutazioni che abbiamo fatto fino a questo momento e sull'idea della Juventus capace di vincere la Champions in due anni, abbiamo sentito il parere anche di Massimo Orlando, ex giocatore della Juventus, sia pure per un breve periodo. Ma guarda, la Juventus già quest'anno ha dimostrato nella partita la doppia sfida contro il Bayern, che può giocarsi ormai la Champions tutti gli anni con i grandi club d'Europa uscita malissimo in quei 15 minuti a Monaco di Baviera. Secondo me, avesse passato quel turno molto probabilmente, poteva presentarsi in finale anche quest'anno. Questo dà consapevolezza alla società che la distanza ormai è ridottissima. Certo, sarà difficilissimo trattenere Pogba, perché immagino che dopo l'Europeo già ci sono ora. arriveranno delle offerte che a volte si definiscono irrinunciabili, però è altrettanto vero che la Juventus ora con i conti è a posto, è inattivo, è la squadra che fattura di più in Italia, ha molta credibilità all'estero, dunque vuol dire che anche i grandi giocatori adesso, qualora venissero seguiti dalla Juventus, verrebbero molto volentieri qui. Chiaro, ripeto, se poi bisogna fare un sacrificio per incassare 80, 100 forse anche di più per un giocatore come Pogba, però abbiamo visto che i dirigenti a Juventus poi sono abilissimi, molto bravi ad andare a trovare i giocatori giusti. Per quanto riguarda Morata, la Juventus lì in quella zona del campo, cioè la fase offensiva ha tantissimi giocatori di qualità. In panchina c'è Zazza, c'è Di Bala comunque che sta facendo il fenomeno, Manzukic, io credo che se dovesse partire Morata, anche perché non penso che abbia alla Juventus in questo momento la certezza di poter giocare e titolare tutte le partite, anche se poi la Juve gioca su tre fronti e dunque fa ruotare i suoi attaccanti. Qualora dovesse partire di sicuro arriverà un grandissimo nome, ripeto, i soldi ci sono, il blasone è tornato quello di una volta e da questo punto di vista la Juve, se anche dovesse perdere Morata, non credo che avrà grosse ripercussioni. Torniamo a sentire Massimo Orlando su un altro argomento più tardi, adesso voltiamo pagina, occupiamoci del Milan, il Milan che continua a far discutere, ieri soltanto pareggio in casa contro il Carpi e c'è stato Bacca che al momento della sostituzione non ha reagito benissimo, anche se poi ha chiesto scusa per il suo gesto nei confronti del tecnico Brocchi. per fare chiarezza su questa situazione andiamo in redazione da Luca Pargellini. Grazie Lorenzo, avete parlato di Juventus ma si parla anche di Milan nell'attualità di oggi tra campo e vicende societarie. Campo perché Carlo Sbacca dopo la sceneggiata successiva alla sua sostituzione da parte di Cristian Brocchi ha scelto Instagram, il suo profilo ufficiale sul social network per chiedere scusa alla squadra, ai tifosi e ovviamente al tecnico per quanto accaduto al momento dell'avvicendamento in campo durante la gara col Carpi a San Siro. Si parla anche di vicende societarie facendo riferimento a delle dichiarazioni arrivate nella tarda serata di ieri da parte del presidente Berlusconi dichiarazioni per dire la verità riferite da ambienti vicino all'ambiente politico del presidente del Milan in cui Berlusconi di fatto affermava la propria disponibilità a cedere il Milan con l'obiettivo di far tornare a grandi livelli la società rossonera. Sappiamo da tempo c'è l'interesse di Mr. B che però negli ultimi mesi nelle ultime settimane è andato via via scemando mentre è in salita diciamo l'interesse di questa accordata cinese che nelle ultime settimane si è fatta forte per quanto riguarda il futuro del Milan è un interesse importante per l'acquisto di quote societarie del club rossonero una situazione che potrebbe evolversi già nel giro dei prossimi mesi in vista della stagione 2016-2017. sta soltanto un po' meglio rispetto al Milan all'Inter che domani affronterà il campionato ludinese Mancini oggi in conferenza stampa ha fatto capire che ci sono dei problemi in attacco insomma questo era evidente i cardi a parte insomma ci si aspettavano molti più gol da parte di Jovetic in primis soltanto per fare un nome poi naturalmente dobbiamo parlare anche di Eder che era il rinforzo tanto atteso a gennaio che poi non è riuscito ad esplodere. Certo lo ha fatto capire ma più che altro sono i numeri che parlano hai detto giustamente tu a parte i cardi gli altri giocatori non hanno fatto quel gol che ci si aspettava e da inizio stagione per quel che riguarda Jovetic e da gennaio per quel che riguarda Eder Eder ancora non ha trovato neanche un gol da quando veste la maglia dell'Inter quindi insomma Mancini ha detto che gli mancano i gol ha detto speravamo che Eder potesse ripetere ciò che aveva fatto alla Sampdoria invece non è andata così però Mancini in tutto questo parlando proprio dell'attacco ha in un certo senso confermato Stefan Jovetic perché si parla tanto del futuro del giocatore dell'Inter in prestito con obbligo di riscatto dal Manchester City con l'obbligo di riscatto che scatterà alla prima presenza nella prossima stagione oggi Mancini ha detto che Jovetic farà più gol il prossimo anno quindi a meno che non si riferisse ai gol in un'altra società di fatto lo ha confermato sei d'accordo con questo punto di vista? Oddio la gestione delle punte di Mancini sono un pochino scettico nel senso che appunto come ricordava Lorenzo è stato Icardi il trascinatore della fase offensiva dei Nerazzurri però se ricordiamo verso metà stagione un po' dopo l'inizio Icardi era finito al centro delle critiche perché non si sacrificava per la squadra non aiutava poi alla fine però è lui che segna e quindi anche Mancini è dovuto tornare un po' sui suoi passi per quanto riguarda Jovetic abbiamo visto che ora è tornato di moda tra virgolette nel senso è stato ai margini della squadra per un periodo abbastanza lungo io onestamente credo che l'Inter aspettasse di capire se avrebbe partecipato alla prossima Champions League per pianificare il proprio futuro ormai mi sembra un'eventualità da escludere senza appunto senza prendere in giro i tifosi senza tema di essere smettiti esatto quindi adesso penso che si faranno dei nuovi piani non so secondo me Derr era un acquisto che non andava fatto detto schiettamente perché un buon giocatore non è da l'Inter c'è da capire se ci sono state difficoltà tattiche probabilmente non ha digerito il salto in avanti rispetto a quanto ha giocato rispetto a dove ha giocato fino a questo momento non è semplice passare dalla Sampdoria all'Inter quindi secondo me è stato quello di incidere più che un discorso tattico per me l'Inter ripartirà dai cardi a meno che non arrivi una grossa offerta dall'estero perché attenzione comunque i cardi sappiamo che è seguito da tantissimi club europei i primi punte che segnano così tanto non ce ne sono moltissime a livello europeo su Jovetic onestamente aspetterei l'estate perché si ha detto questa frase e deve intendere come l'ha interpretata Lorenzo però è strana questa gestione del Montenegrino allora sull'Inter ascoltiamo e torniamo così a vedere Massimo Orlando che ci regala le sue considerazioni sulla squadra nera azzurra sull'attacco sulla gestione del gruppo da parte di Mancini ci lasciamo proprio con le parole di Massimo Orlando dunque grazie Lorenzo Di Benedetto grazie buonasera e naturalmente anche Ivan Cardino grazie a tutti per averci seguito vi lasciamo con le parole di Massimo Orlando per quanto riguarda l'Inter io credo che Mancini abbia anche lui le sue colpe perché è vero che a parte i cardi gli altri attaccanti hanno segnato poco ma è anche altrettanto vero che ha ruotato un po' troppo spesso avendo solamente una competizione e secondo me aveva l'obbligo di trovare i 12-13 giocatori e di andare avanti con quelli all'inizio è partito con Jovetic che ha vinto 3-4 partite da solo con i gol appunto anche negli ultimi minuti poi è stato escluso per tanti motivi intattici forse non andava d'accordo con lo stesso allenatore insomma cose di spogliatoio che magari dovremmo chiedere a Mancini è stato comprato Eder e poco dopo anche lui è stato messo da parte io credo che alla fine abbia fatto anche un po' di confusione Mancini tanti buonissimi giocatori però non è mai riuscito a trovare la coppia giusta in attacco il tridente che potesse comunque dargli garanzie e continuità io credo che questa Inter per i giocatori che aveva a disposizione doveva fare molto di più